RISE E benvenuti ragazzi bentornati su Granada del RISE Clan, sono RISE Termi Oggi ragazzi ingeple che state vedendo di sottofondo E' un doppio nuco che ha realizzato il nostro RISE Fero nella modalità Dominio Veterano Con un Razorback nella nuova mappa degli RC Awakening che si chiama RISE Per sapere maggiori informazioni riguranti la classe oppure sul gameplay in generale Mi invito a chiedere questo nei commenti che o io o Peppi o Fero sicuramente vi sapremo rispondere La peculiarità di questo gameplay o direi la sfortuna di questo gameplay E' che il nostro povero Fero è morto A5 dal triplo nuclear Come probabilmente state sentendo dalla mia voce ragazzi non sono proprio in forma Infatti ho un forte mal di gola, un po' di mal di testa e anche un forte mal di pancia Perché comunque diciamo mi ha appena colpito una brutta influenza Quindi se questo commentario non sarà il top vi chiedo di perdonarmi e non uccidermi qua sotto nei commenti Oggi ragazzi visto che appunto siamo in tema di malattie Io vorrei parlare del perché in questo periodo come penso stiate notando tutti Ci sono veramente molte persone a casa con influenza oppure con mal di testa o mal di gola Così anche semplici diciamo Il perché è collegato al fatto che in questo periodo le polveri sottili, i gas e lo smog in generale Si sta veramente alzando ad un livello assurdo Questo perché? Perché comunque non piove o piove veramente pochissimo Quindi lo smog delle auto, dei camini e chi più ne metta rimane nell'aria e non se ne va via Mentre con appunto la pioggia riesce a depurare un pochino l'aria E voi direte che questa cosa c'entra con il fatto che noi ci ammaliamo C'entra perché? Perché noi nel nostro corpo abbiamo due ghiandole chiamate tonsille Che hanno una precisa funzione Cosa fanno queste tonsille? Hanno il compito di trattenere tutto lo smog e tutte le polveri sottili dannose per il corpo E però vuol dire che è utile Sì però quando lo fanno si gonfiano E essendo che c'è veramente tanto smog in questo periodo ragazzi Chi respira o ha tanto inquinamento Ovviamente avrà delle tonsille sempre più gonfie Come appunto io che vivo in una cittadella molto inquinata E quindi appena esco c'è respiro proprio inquinamento a go go E quindi ogni volta che esco mi si gonfiano le tonsille Quindi cosa succede? Queste tonsille si gonfiano Ci viene un forte mal di gola Questo forte mal di gola si trasforma in mal di testa Perché comunque è un dolore insopportabile E appunto poi da tutto questo nasce febbre e influenza Poi oltre a questo in questo periodo sta anche girando Un altro virus abbastanza rompipalle Questo virus abbastanza rompipalle è il virus dello stomaco Virus intestinale Infatti molti miei amici o hanno questa appunto febbre Oppure hanno questo virus intestinale Che appunto ho preso io Perché io settimana scorsa ho fatto l'influenza Adesso ho preso anche il virus intestinale E in più ho anche l'influenza Quindi proprio dai L'ho messo benissimo Questo diciamo Voi direte Sì dai è una bella cosa Almeno stai a casa No ragazzi fidatevi Preferirei milioni di volte andare a scuola Che stare qua a letto Cioè in più non posso neanche giocare la pari ragazzi Perché sto talmente male Che non riesco proprio a alzarmi dal letto Niente ragazzi Spero che appunto questo commento lì vi sia piaciuto Fatemi sapere se anche voi siete nella mia stessa situazione Se siete a casa malati oppure se state bene Se siete a scuola a divertirvi con i vostri compagni Niente ragazzi Guardate il mio è tutto Ci si becca ad un prossimo video Bella